Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ben ritrovati. Oggi mi aspetto un compito molto arduo ma molto bello, quello di parlarvi di uno indubbiamente dei più grandi orologiai ancora viventi, cari Wuttilainen. Come sempre non sarò attentissimo alla biografia anche perché potete trovare tutto in rete ovunque. Diciamo che Wuttilainen è finlandese di origine, dal 2002 è diventato un orologiaio indipendente e si è stabilito Mottie in Svizzera. In realtà Wuttilainen già da anni è in Svizzera ad apprendere l'arte dell'orologeria. Nasce nel 1962, fa studi quasi subito da orologiaio, cioè insomma appena all'età minima per poterlo fare e da segnalare nel suo percorso prima di diventare un orologiaio indipendente appunto nel 2002 a Mottie in Svizzera, lui fa dieci anni di lavoro e studio da Parmigiani Fleurier, quindi che non era poi ancora Parmigiani Fleurier, diciamo li fa da Michel Parmigiani quando Michel Parmigiani restaura i famosi orologi con automi della collezione Sandoz e quindi a modo di lavorare su alcuni dei più complicati e più preziosi pezzi di orologeria che siano mai stati creati dall'uomo. E con un maestro così non mi sorprende che abbia appreso e imparato e realizzato poi tanto. Già conosciuto dall'industria dell'orologeria nel 2002 diventa appunto indipendente e inizia una sua produzione firmata Cari Wuttilainen. A Mottie c'è la sua casa, che è una casa indipendente molto bella, molto grande, che ha anche il suo laboratorio di orologeria e quindi vive con la sua famiglia e poi lavora non da solo agli orologi perché ormai Wuttilainen ha una produzione di 80-100 pezzi l'anno, a volte anche meno, quindi ha dei dipendenti, non tantissimi, una quarantina comunque, nemmeno tanto pochi. E vediamo che cosa fa di così straordinario e che cosa ha fatto di così straordinario Cari Wuttilainen come orologiaio indipendente. Allora cominciamo subito col dire che oggi, poi faremo anche dei passaggi nel passato, ma oggi la sua gamma di orologi ha il cuore fondante in una collezione che si chiama 28, 20. Questa collezione di orologi di base sullo tempo viene proposta nelle più diversi materiali con casse che variano fra i 37 e i 39 mm e mezzo con una varietà di quadranti. Ecco, diciamo subito, Wuttilainen, una delle sue specialità riconosciute universalmente, è la maestria dei suoi quadranti artigianali, lo stile è quello breguet, cioè lo stile inglese dell'orologeria inglese del 700 che poi riprese e perfezionò breguet. Il suo stile è quello quindi con quadranti di guioche, ma guioche con macchine azionate a mano, cioè lui è uno di quei pochi che ha comprato tante macchine, quei vecchi torni che fa vedere anche Audemars Piguet quando fa vedere la realizzazione della microtapisserie su Royal Oak, quei torni azionati a mano in cui la mano dell'uomo non dà solo la forza motrice per far girare il tornio e per far eseguire il lavoro, ma a seconda della velocità e di come preme la mano dell'uomo è in grado di determinare il risultato dell'operazione. Quindi è una mano dell'uomo assistita da una macchina azionata a mano che però appunto prevede un ruolo importante della mano dell'uomo nel risultato finale e naturalmente ha, come posso dire, ha formato una serie di operatori, di artigiani su questi quadranti che lavorano a queste macchine, lavorano per i suoi orologi e qualche volta anche per gli orologi di altri, dal tanto appunto che i suoi quadranti sono famosi. Poi non è solo il guioche fatto in questo modo, ma poi è diventato famoso anche per smalti policromi molto complicati con tutte le tecniche possibili e immaginabili. Vedremo orologi stupendi, ma sono stupendi questi Vang 8 anche sul piano tecnico, perché tutti i Vang 8 hanno uno scappamento assolutamente innovativo, uno scappamento chiamato, uno scappamento a doppia ruota anch'esso, ma non coassiale, c'è una doppia ruota non coassiale, c'è una sorta di leva che però ha un ruolo assolutamente minore ed è a doppio impulso diretto, cioè mentre noi abbiamo visto nello scappamento due all'impulso di Seiko, un impulso diretto alternato a un impulso indiretto, qui abbiamo due impulsi diretti e quindi questo scappamento di cui poi vi faccio vedere anche un estratto del brevetto con lo schema per capire bene come funziona, un funzionamento abbastanza complesso, ma questo scappamento sembra veramente l'ideale, perché con due impulsi diretti abbiamo veramente la riduzione al minimo di quelle elevate frizioni che i pallet di Rubino hanno nello scappamento ad ancora Svizzera. Il movimento è dato dalle ruote di scappamento al bilanciere in maniera radiale, quindi è con l'ausilio appunto di questa leva, ma sono impulsi diretti, non sono impulsi indiretti come nello scappamento ad ancora Svizzera. Basta parole e cominciamo a vedere una carrellata di immagini da, francamente, da togliere il fiato, secondo me. Ecco, questo è il 28 a secondi centrali, è una delle tante versioni perché poi si possono scegliere colori, quadranti, materiali, dimensioni della cassa, finiture del calibro e quindi c'è una personalizzazione estrema. Ecco il calibro, vedete che c'è questo grande bilanciere con questo ponte caratteristico di VT Liner lucidato a mano specchio. Le finiture sono tutte manuali del più alto livello possibile immaginabili, siamo solo un fino sotto du furo, probabilmente un filo, niente di più. E abbiamo questo scappamento che vi ho descritto. Qui vediamo una versione con ponti e platina d'oro, come fa Journe, ma sono disponibili anche versioni in ottone normali. Intanto stiamo vedendo lo schema tratto proprio dal suo brevetto dello scappamento doppiamente diretto, anche se c'è questa leva che comunque ha un ruolo minoritario, è giocato su diverse altezze, è abbastanza complicato da spiegare il funzionamento, probabilmente con un video si vedrebbe molto meglio. Ecco, state vedendo la variante Sport con cassa in titanio e un'altra variazione dei suoi infiniti quadranti, molto bella, particolare. Questa è una versione recentissima che amo molto, che si chiama T, che in realtà è inversa, cioè praticamente lui ha ribaltato il calibro, facendo vedere il fondello sul lato delle sfere. Naturalmente questo ha richiesto una serie di modifiche, ma consente anche una visione splendida del calibro. Io lo amo molto, la amo molto questa versione, ti fa vedere proprio il suo scappamento, come funziona, le finiture veramente sublimi di ogni più piccolo piccolo particolare. E ecco qui è inquadrato bilanciere e scappamento. Perché vi voglio far vedere qualcosa di veramente molto esclusivo, un'altra variante che io amo tantissimo, geniale, di WT Linen 28. Questa versione in apparenza è identica, identica, identica a tutte le altre, solo che offre un metodo di lettura totalmente alternativo rispetto a quello classico dell'ora. Pur avendo il quadrante con le scale di ore e minuti e le due sfere, una delle ore e una dei minuti. Quindi se uno guarda distrattamente l'orologio lo scambia per un orologio convenzionale, invece è assolutamente, genialmente non convenzionale. Perché? Perché la scala dei minuti avanza alla stessa velocità della sfera delle ore. E questo comporta una lettura delle ore che è totalmente diversa rispetto a quella normale e che è chiamata ISO. Perché è costante l'angolo fra le due sfere a parità di minuti qualunque sia l'ora indicata. Se ci pensate bene, sugli orologi tradizionali questa costanza di angolo non esiste. Perché solo alle 12 tu hai le due sfere di ore e minuti sovrapposte. Ma a luna avrai la sfera delle ore che indica luna e la sfera dei minuti che indica lo zero del minuto iniziale dell'ora luna. Invece qui, qualsiasi sia l'ora, quando siamo al minuto iniziale della nuova ora, le due sfere sono sempre sovrapposte. E quando siamo alla mezza ora dell'ora indicata, le due sfere sono sempre orientate a 180 gradi l'una dall'altra. È veramente una soluzione geniale. Intanto vi faccio vedere l'orologio. Appunto si chiama ISO per questo. Perché l'angolo fra le due sfere è sempre costante qualunque sia, a parità di minuti, qualunque sia l'ora indicata. Vediamolo subito. Ecco il 1A ISO. Come vedete sembra veramente un'orologio a indicazione convenzionale, ma come vi ho detto è tutt'altro. Guardate lo splendido calibro, sempre il 28, grande bilanciere, sempre lo scappamento diretto di VTR. Se qualcuno potrebbe stupirsi della mia insistenza su questa versione ISO, perché mi colpisce così? Perché innanzitutto mi piace l'idea della lettura alternativa invisibile, cioè che apparentemente è completamente classica. Ma c'è un'altra ragione di fondo che trovo interessante. In un orologio con lettura convenzionale a sfere, noi in realtà l'ora non la leggiamo. Almeno io mi sono accorto, passando da orologi che indicano l'ora in modo diverso, cioè dalle sfere tradizionali, a minuti retrogradi, ore saltanti, eccetera, indicazioni liquide persino, e mi sono sempre più reso conto che in realtà quando ci sono le sfere, il quadrante classico, noi non leggiamo l'ora. Noi semplicemente guardiamo la posizione delle sfere in un attimo e abbiamo un'idea grosso modo dell'ora, che ci basta per la nostra vita quotidiana. Naturalmente saremo un po' più attenti quando abbiamo un appuntamento, magari con qualcuno, o magari per fare qualcosa, ma generalmente l'ora non la leggiamo perché non ne abbiamo bisogno come informazione. Quando un costruttore, un watchmaker come VT Liner presenta un orologio così, con un'indicazione alternativa, tu riprendi l'abitudine di leggere l'ora, di leggere i minuti, ed è una cosa utile, utile anche per la mente, perché poi guardate che questo sistema ad angolo costante tra le due sfere a parità di minuti indipendentemente dall'ora è un sistema che in realtà io non ho mai posseduto questo orologio, ma sono certo che dopo un po' di uso sia facilissimo da usare, perché è assolutamente logico, è assolutamente logico, quindi veramente considero questa variante veramente geniale, assolutamente. Ma passiamo ora al GMT di VT Liner, vediamolo subito. Eccolo in una versione che è un quadrante guilloché, ma a smalto, come anche il 28 ISO che vi ho fatto vedere prima, oltre al guilloché aveva anche lo smalto, che è un'altra delle specialità, uno smalto a più colori. Voi vedete le ore e minuti, a ore 6 c'è l'indicazione dei secondi continui, e poi vedete che c'è un disco per il secondo fuso orario e vedete che è diviso a metà, metà una decorazione e metà un'altra, tutto manuale, tutto per indicare le ore diurne, le ore notturne dell'ora che io chiamerei l'ora di casa, l'home time, mentre invece l'ora locale è indicata dalle sfere principali. La cosa da segnalare, a parte il calibro che da dietro sembra un Vant 8 normale, ovviamente è che l'avanzamento dell'ora è a salti di ora in ora, schiacciando il pulsante qualsiale alla corona, una soluzione semplice ed elegante. Intanto stiamo già vedendo un altro modello. Grande complicazione, il decimal repeater, perché VT Line ne è stato il primo a introdurre la ripetizione decimale. Come funziona? Azionando la slitta laterale, noi abbiamo l'indicazione con un tono grave delle ore, con un tono acuto e grave le decine di minuti trascorse e con un tono acuto il numero di minuti trascorso dall'ultima decina. Qui vedete il calibro lato quadrante e lui per realizzare questa ripetizione decimale che indica le decine invece dei quarti, vedete che ha dovuto modificare il disegno delle camme. Infatti voi vedete al centro che al posto della semplice camma, fra virgolette, stella marina, dei minuti e dei quarti, cioè in realtà poi quella dei quarti è un'altra camma ancora, ma diciamo dei minuti che tiene conto dei quarti, qui i minuti devono tenere conto delle decine e quindi ha più braccia la stella marina, diciamo. E qui lo vediamo lato fondello con le semplici e strepitose finiture di Wooty Line che naturalmente in un calibro così complicato hanno modo di essere ancora più belle, più costose e più estese. Stiamo rivedendo il quadrante del Masterpiece 7, cioè del Decimal Repeater, perché naturalmente ho dimenticato di dire che anche GMT come potete vedere a ore 12 con lo stesso sistema che abbiamo visto nel Vent 8 GMT. Dopo che Wooty Line ha introdotto questa Decimal Repeater, cosa che non aveva fatto nessun altro, e anche se sembra semplice come modifica, non lo è, perché riprogettare quelle camme che sono così da secoli, riprogettarle le camme relativi ai rastrelli, è complesso, è complicato, e nessuno aveva avuto il coraggio di farlo prima di Wooty Line. Wooty Line l'ha fatto, poi anni dopo a Langenzone, col suo Zeitwerk Minute Repeater, ha esattamente ripreso lo stesso sistema, quindi chapeau ancora una volta a Wooty Line. Bene, io come sempre cerco di darvi un'idea di che cosa ha fatto e di che cosa fa Wooty Line. questi orologi su ordinazione, in cui tu puoi scegliere il tipo di quadrante, il grado di lavorazione del quadrante, il grado anche del calibro, cioè per esempio i materiali nobili o non nobili dei ponti e delle platine, insomma si possono scegliere tante cose, sono prodotti su ordinazione. Devo dirvi che il prezzo è molto alto, considerate che alcuni anni fa un Want 8 base, cioè senza materiali preziosi, costava sugli 80.000 euro, oggi penso costi ancora di più, e comunque sono orologi di una bellezza e di una fattura assolutamente straordinaria, e lui ha dimostrato di essere un orologio che è anche una certa inventiva tecnica. Certo, se uno potesse unire queste finiture con la genialità di un journe, verrebbero fuori probabilmente i orologi da polso più straordinari della storia. Problema piccolo, costerebbero talmente tanti soldi che veramente sarebbero ancora meno diffusi di quanto già pochissimo non siano oggi. Ci vogliono 6-8 mesi per avere un solo tempo di WT Leinen. GMT, anche in questo caso degli Amici Corvo, è la società che permette di trasmettere gli ordini a WT Leinen. Allora, adesso passo all'esperienza più personale. Mi è capitato alcuni anni fa di avere un conoscente che aveva ordinato, preso da GMT, un Vant 8 di WT Leinen nuovo, con un quadrante chiaro. Allora, me lo fece vedere. Orologio assolutamente superbo, soprattutto il quadrante straordinario, bellissima la finitura, si vede quando c'è un grado di artigianità e quando la mano dell'uomo conta, si vede, si vede dalla profondità del guilloché, ma anche da alcune imperfezioni che si vedono, anche se le imperfezioni sono molto, molto rare, molto, devi andarle a cercare sul lentino per vederne traccia. E poi, questo quadrante bianco, guilloché, era messo in risalto anche da un vetro che appunto ne accentra tutta le raccoglie, tutta la luce, proprio perché WT Leinen sa che questo è il suo cavallo di battaglia. Poi, girato il passato sul lato B, calibro rifinito in tutte le sue parti in una maniera splendida, ecco, in quel caso mi lamentai un po' perché nel calibro comunque c'era un solo angolo rientrante. Ecco, io credo che, ovviamente il cliente poteva scegliere di avere più angoli rientranti, ma io credo che quando si spendano certe somme, per esempio il Gronefeld dimostra che si può avere una finitura del calibro ancora superiore, cioè non tanto superiore per la qualità delle lavorazioni, superiore per la quantità e poi fatte sull'acciaio, non fatte sull'ottone, che è molto, molto, o sull'oro, che è molto, molto più duro l'acciaio, sia dell'ottone sia dell'oro e quindi ci vogliono più ore di lavorazione. Ecco, avere un disegno dei ponti più complicato, avere ponti più separati invece di avere questa sorta di, non platina a tre quarti, non è tantissimo, ecco, anche se poi c'è poi quel bilanciere grande, c'è quello scappamento innovativo, c'è quel ponte del bilanciere lucidato specchio, che è una meraviglia, e tutto quello che c'è è fatto in maniera superba, quindi chapeau, nulla da ridire. Ho poi avuto modo di stringere la mano e di scambiare quattro parole con W.T. Leinen al Maxi di Roma, credo che sia successo nel 2018. Al Maxi di Roma, tra l'altro, in questa esposizione dedicata all'orologeria indipendente, c'era un'assurdità fra le tante, ma ce n'era una veramente incredibile, cioè che gli orologi erano esposti come quadri, sottoteche, peraltro mal illuminate, e proprio come quadri non si potevano toccare, ma gli orologi non sono quadri. È un appassionato, quando va a vedere degli orologi, soprattutto se sono così rari, pretende di vederli e di toccarli anche con mano. C'era lì W.T. Leinen, io inizio a parlare con W.T. Leinen, W.T. Leinen, sponta sua, disobbedisce agli organizzatori della mostra, apre la vertinetta e mi dà in mano il suo GMT, prende dalla vertinetta il GMT che aveva appena presentato allora e me lo fa vedere, ovviamente grandissimo orologio, ma grandissimo anche W.T. Leinen, che è una persona anche con cui si parla volentieri, molto modesta nell'atteggiamento, molto gradevole. E quindi, credo sia una bella esperienza, avere a che fare più a lungo con W.T. Leinen. Ecco, questa, diciamo così, è quello che vi posso dire. io che ho deciso di dirvi di W.T. Leine, e naturalmente si potrebbe dire molto di più su tanti aspetti, io in questi video tendo sempre a darvi delle idee, degli spunti, spero di non essere stato troppo inadeguato rispetto alla meraviglia di questi orologi, spero di averne dato almeno un'idea, e al prossimo video dove parleremo di orologi da porso con automi, un argomento che è molto, molto interessante. A prestissimo. Post scriptum. Stavo dimenticando qualcosa di importante, di cui ho accennato all'inizio, ma che merita qualche riflessione in più. Voi sapete, vi ho detto prima, che W.T. Leinen è diventato talmente famoso per i suoi quadranti che di fatto li vende anche ad alcuni altri orologiai, di solito indipendenti e sempre di altissimo livello. Ad esempio il mio Gronefeld 1941 con un addizionale di 5.000 euro per le versioni Ghiochet e 7.000 per quelli allo smalto possono avere un quadrante fatto da W.T. Leinen. Ecco, sui quadranti di W.T. Leinen c'è un'altra cosa da dire che ho potuto osservare personalmente insieme ad altri acuti osservatori della materia orologiera e dell'artigianalità. Allora, ci sono orologi di W.T. Leinen che appaiono con un quadrante più artigianale di altri cioè con qualche imperfezione maggiore ma soprattutto ci sono voi sapete che W.T. Leinen come avete potuto vedere mette una sorta di placchetta aggiunta sul quadrante col suo nome. Ora, ci sono degli orologi che hanno la placchetta avvitata e questa è garanzia di artigianalità perché lui avvita la placchetta. Ci sono degli altri W.T. Leinen che non hanno la placchetta avvitata in realtà non hanno le viti apparenti perché poi probabilmente le vitri sono dietro il quadrante è da supporre. Ma certo, questo riporta ad una considerazione che già ho fatto in altri video recenti cioè il fatto che W.T. Leinen un po' come altri nel tempo ha perfezionato molto ha reso molto più levigato molto più apparentemente perfetto il suo lavoro quindi togliendo quell'aspetto di artigianalità un po' sdrucita un po' incompiuta un po' imperfezionata che io amo molto come stile in altri orologi artigianali ecco, in realtà anche diversi W.T. Leinen hanno questi tratti ma sono W.T. Leinen più complicati o in genere W.T. Leinen del passato oggi tende ad essere tutto più quasi industriale di aspetto in realtà io mi sono fatto l'idea anche se la cosa è discorsa che tutti questi quadranti siano tutti perfettamente artigianali fatti con queste macchine e torni azionati a mano e che in realtà sia solo una differenza stilistica che però ha la sua importanza se io ordinassi un orologio a W.T. Leinen lo vorrei con più angoli rientranti nel calibro e con un quadrante con quella placca vitata con le viti a vista perché? Perché è più bello ecco, semplicemente vabbè, magari sono pattugne da appassionato da maniaco degli orologi un caro saluto e scusate per l'aggiunta grazie a tutti grazie a tutti